di alessandro manzoni i promessi sposi voce di lorenzo pieri capitolo 26 parte seconda il cardinale era anche lui sulle mosse per continuare la sua visita quando arrivò e chiese di parlargli il curato della parrocchia in cui era il castello dell'innominato introdotto gli presentò un gruppo e una lettera di quel signore la quale lo pregava di far accettare alla madre di lucia cento scudi d'oro che erano nel gruppo per servir di dote alla giovine o per quell'uso che ad esse sarebbe parso migliore lo pregava insieme di dir loro che semmai in qualunque tempo avessero creduto che potesse render loro qualche servizio la povera giovine sapeva purtroppo dove stesse e per lui quella sarebbe una delle fortune più desiderate il cardinale fece subito chiamare agnese le riferì la commissione che fu sentita con altrettanta soddisfazione che maraviglia e le presentò il rotolo che essa prese senza far gran complimenti dio gliene renda merito a quel signore disse e vos signoria illustrissima lo ringrazi tanto tanto e non dica nulla a nessuno perché questo è un certo paese mi scusi veda so bene che un par suo non va a chiacchierare di queste cose ma lei mi intende andò a casa zitta zitta si chiuse in camera svoltò il rotolo e quantunque preparata vide con ammirazione tutti in un mucchietto e suoi tanti di quel ruspi dei quali non aveva forse mai visto più d'uno per volta e anche di rado li contò penò alquanto a metterli di nuovo per taglio e a tenerli lì tutti che ogni momento facevano pancia e sgusciavano dalle sue dita inesperte ricomposto finalmente un rotolo alla meglio lo mise in un cencio ne fece un involto un batuffoletto e legatolo bene in giro con della cordellina l'andò a ficcare in un cantuccio del suo saccone il resto di quel giorno non fece altro che mulinare far disegni sull'avvenire e sospirar l'indomani andata a letto stette d'esta un pezzo col pensiero in compagnia di quel cento che aveva sotto addormentata li vide in sogno all'alba salzò e si incamminò subito verso la villa dove era lucia questa dal canto suo quantunque non le fosse diminuita quella gran ripugnanza a parlar del voto pure era risoluta di farsi forza ed aprirsene con la madre in quell'abboccamento che per lungo tempo doveva chiamarsi l'ultimo appena poterono essere sole agnese con una faccia tutta animata e insieme a voce bassa come se ci fosse stato presente qualche d'uno a cui non volesse farsi sentire cominciò ho da dirti una gran cosa e le raccontò l'inaspettata fortuna iddio lo benedica quel signore disse lucia così avrete da star bene voi e potrete anche far del bene a qualche d'un altro come rispose agnese non vedi quante cose possiamo fare con tanti danari senti io non ho altro che te che voi due posso dire perché renzo da che cominciò a discorrerti l'ho sempre riguardato come un mio figliuolo tutto sta che non gli sia accaduta qualche disgrazia a vedere che non ha mai fatto saper nulla ma deve andare tutto male speriamo di no speriamo per me avrei avuto caro di lasciare l'ossa nel mio paese ma ora che tu non ci puoi stare in grazia di quel birbone e anche solamente a pensare d'averlo vicino colui è venuto in odio il mio paese e con voi altri io sto per tutto ero disposta fin dall'ora a venire con voi altri anche in capo al mondo e sono sempre stata di quel parere ma senza danari come si fa intendi ora que quattro che quel poverino aveva messi da parte con tanto stento e con tanto risparmio è venuta la giustizia e ha spazzato ogni cosa ma per ricompensa il signore ha mandato la fortuna a noi dunque quando avrà trovato il bandolo di far sapere se è vivo e dov'è e che intenzioni ha ti vengo a prendere io a milano io ti vengo a prendere altre volte mi sarebbe parso un granché ma le disgrazie fanno diventare disinvolti fino a monza ci sono andata e so cos'è viaggiare prendo con me un uomo di proposito un parente come sarebbe a dire alessio di maggianico che a voler dir proprio in paese un uomo di proposito non c'è vengo con lui già la spesa la facciamo noi e intendi ma vedendo che invece d'animarsi lucia s'andava accorando e non dimostrava che una tenerezza senza allegria lasciò il discorso a mezzo e disse ma cos'hai non ti pare povera mamma esclamò lucia gettando le un braccio al collo e nascondendo il viso nel seno di lei cosa c'è domandò di nuovo ansiosamente la madre avrei dovuto dirvelo prima rispose lucia alzando il viso e asciugandosi le lacrime ma non ho mai avuto cuore compatitemi ma di su dunque io non posso più essere moglie di quel poverino come come lucia col capo basso col petto ansante lacrimando senza piangere come chi racconta una cosa che quando anche dispiacesse non si può cambiare rivelò il voto e insieme giungendo le mani chiese di nuovo perdono alla madre di non aver parlato fino allora la pregò di non ridir la cosa ad anima vivente ed aiutarla ad adempire ciò che aveva promesso agnese era rimasta stupefatta e costernata voleva sdegnarsi del silenzio tenuto con lei ma i gravi pensieri del caso soffogavano quel dispiacere suo proprio voleva dirle cosa hai fatto ma le pareva che sarebbe un prendersela col cielo tanto più che lucia tornava a dipingere con più vivi colori quella notte la desolazione così nera e la liberazione così impreveduta tra le quali la promessa era stata fatta così espressa così solenne e intanto ad agnese veniva anche in mente questo e quell'esempio che aveva sentito raccontar più volte che lei stessa aveva raccontato alla figlia di gastighi strani e terribili venuti per la violazione di qualche voto dopo esser rimasta un poco come incantata disse e ora cosa farai ora rispose lucia tocca al signore a pensarci al signore e alla madonna mi son messa nelle loro mani non m'hanno abbandonata finora non m'abbandoneranno ora che la grazia che chiedo per me al signore la sola grazia dopo la salvazione dell'anima è che mi faccia tornare con voi e me la concederà sì me la concederà quel giorno in quella carrozza a vergine santissima quegli uomini che mi avrebbe detto che mi menavano da colui che mi doveva menare a trovarmi con voi il giorno dopo ma non parlarne subito a tua madre disse agnese con una certa stizzetta temperata d'amorevolezza e di pietà compatitemi non avevo cuore e che sarebbe giovato da affliggervi qualche tempo prima e renzo disse agnese tentennando il capo esclamò lucia riscotendosi io non ci devo pensare più a quel poverino già si vede che non era destinato vedete come pare che il signore ci abbia voluti proprio tener separati e chissà ma no no l'avrà preservato lui da pericoli e lo farà essere fortunato anche di più senza di me ma intanto riprese la madre se non fosse che tu ti sei legata per sempre a tutto il resto quando a renzo non gli sia accaduta qualche disgrazia con quei danari io ci avevo trovato rimedio ma quei danari replicò lucia ci sarebbero venuti se io non avessi passata quella notte è il signore che ha voluto che tutto andasse così sia fatta la sua volontà e la parola morì nel pianto a quell'argomento inaspettato agnese rimase lì pensierosa dopo qualche momento lucia rattenendo i singhiozzi riprese ora che la cosa è fatta bisogna adattarsi di buon animo e voi povera mamma voi mi potete aiutare prima pregando il signore per la vostra povera figlia e poi bisogna bene che quel poverino lo sappia pensateci voi fatemi anche questa carità che voi ci potete pensare quando saprete dov'è fategli scrivere trovate un uomo appunto vostro cugino alessio che è un uomo prudente e caritatevole e ci ha sempre voluto bene e non ci arlerà fategli scrivere da lui la cosa come è andata dove mi son trovata come ho patito e che dio ha voluto così e che metta il cuore in pace e che io non posso mai mai essere di nessuno e fargli capir la cosa con buona grazia spiegargli che ho promesso che ho proprio fatto voto quando saprà che ho promesso alla madonna ha sempre avuto il timor di dio e voi la prima volta che avrete le sue nuove fatemi scrivere fatemi sapere che è sano e poi non mi fate più saper nulla agnese tutta intenerita assicurò la figlia che ogni cosa si farebbe come desiderava vorrei dirvi un'altra cosa riprese questa quel poverino se non avesse avuto la disgrazia di pensare a me non gli sarebbe accaduto ciò che gli è accaduto è per il mondo gli hanno troncato il suo avviamento gli hanno portato via la sua roba quel risparmi che aveva fatti poverino sapete perché noi abbiamo tanti danari o mamma già che il signore ci ha mandato tanto bene e quel poverino è proprio vero che lo riguardavate come vostro sì come un figliuolo o fate mezzo per uno che sicuro il dio non ci mancherà cercate un'occasione fidata e mandategli lì che sa il cielo come n'ha bisogno ebbene cosa credi rispose agnese glieli manderò davvero povero giovine perché pensi tu che fossi così contenta di quei danari ma io era proprio venuta qui tutta contenta basta io glieli manderò povero renzo ma anche lui so quel che dico certo che i danari fanno piacere a chi n'ha bisogno ma questi non saranno quelli che lo faranno ingrassare lucia ringraziò la madre di quella pronta e liberale condiscendenza con una gratitudine con un affetto da far capire a chi l'avesse osservata che il suo cuore faceva ancora a mezzo con renzo forse più che lei medesima non lo credesse e senza di te che farò io povera donna disse agnese piangendo anch'essa e io senza di voi povera mamma e in casa di forestieri e laggiù in quel milano ma il signore sarà con tutte due e poi ci farà tornare insieme tra otto o nove mesi ci rivedremo e di qui allora e anche prima spero avrà accomodate le cose lui per riunirci lasciamo fare a lui la chiederò sempre sempre alla madonna questa grazia se avessi qualche altra cosa da offrirle lo farei ma è tanto misericordiosa che me lotterrà per niente con queste ed altre simili e più volte ripetute parole di lamento e di conforto di rammarico e di rassegnazione con molte raccomandazioni e promesse di non dir nulla con molte lacrime dopo lunghi e rinnovati abbracciamenti le donne si separarono promettendosi a vicenda di rivedersi il prossimo autunno al più tardi come se il mantenere dipendesse da loro e come però si fa sempre in casi simili intanto cominciò a passare molto tempo senza che agnese potesse saper nulla di renzo nel lettere né imbasciate da parte di lui non ne veniva di tutti quelli del paese o del contorno a cui poté domandare nessuno ne sapeva più di lei e non era la sola che facesse in vano una tal ricerca il cardinal federigo che non aveva detto per cerimonia alle povere donne di voler prendere informazioni del povero giovine aveva infatti scritto subito per averne tornato poi dalla visita a milano aveva ricevuto la risposta in cui gli si diceva che non si era potuto trovare capito dell'indicato soggetto che veramente era stato qualche tempo in casa ad un suo parente nel tal paese dove non aveva fatto dir di sé ma una mattina era scomparso all'improvviso e quel suo parente stesso non sapeva cosa ne fosse stato e non poteva che ripetere certe voci in aria e contraddittorie che correvano essersi il giovine arrolato per il levante esser passato in germania perito nel guadare un fiume che non si mancherebbe di stare alle velette se mai si potesse saper qualcosa di più positivo per farne subito parte a sua signoria illustrissima e reverendissima più tardi quelle altre voci si sparsero anche nel territorio di lecco e vennero per conseguenza agli orecchi danese la povera donna faceva di tutto per venire in chiaro qual fosse la vera per arrivare alla fonte di questa e di quella ma non riusciva mai a trovare di più di quelle dicono che anche al giorno d'oggi basta da sé ad attestar tante cose talora appena gliene era stata raccontata una veniva uno e le diceva che non era vero nulla ma per dargliene in cambio un'altra ugualmente strana o sinistra tutte charle ecco il fatto il governatore di milano e capitano generale in italia don gonzalo fernandez di cordova aveva fatto un gran fracasso col signor residente di venezia in milano perché un malandrino un ladrone pubblico un promotore di saccheggio ed omicidio il famoso lorenzo tramaglino che nelle mani stesse della giustizia aveva eccitato sommossa per farsi liberare fosse accolto e ricettato nel territorio bergamasco il residente aveva risposto che la cosa gli riusciva nuova e che scriverebbe a venezia per poter dare a sua eccellenza quella spiegazione che il caso avesse portato a venezia avevan per massima di secondare e di coltivare l'inclinazione degli operai di seta milanesi a trasportarsi nel territorio bergamasco e quindi di far che ci trovassero molti vantaggi e soprattutto quello senza di cui ogni altro è nulla la sicurezza siccome però tra due grossi litiganti qualche cosa per poco che sia bisogna sempre che il terzo goda così bortolo fu avvisato in confidenza non si sa da chi che renzo non istava bene in quel paese e che farebbe meglio a entrare in qualche altra fabbrica cambiando anche nome per qualche tempo bortolo intese per aria non domandò altro corse a dir la cosa al cugino lo prese con sé in un calessino lo condusse a un altro filatoio discosto da quello forse quindici miglia e lo presentò sotto il nome d'antonio rivolta al padrone che era nativo anche lui dello stato di milano e suo antico conoscente questo quantunque l'annata fosse scarsa non si fece pregare a ricevere un operaio che gli era raccomandato come onesto e abile da un galantuomo che se ne intendeva alla prova poi non ebbe che alodarsi dell'acquisto meno che sul principio gli era parso che il giovine dovesse essere un po stordito perché quando si chiamava antonio le più volte non rispondeva poco dopo venne un ordine da venezia in istile pacato al capitano di bergamo che prendesse ed esse informazione se nella sua giurisdizione e segnatamente nel tal paese si trovasse il tal soggetto il capitano fatte le sue diligenze come aveva capito che si volevano trasmise la risposta negativa la quale fu trasmessa al residente in milano che la trasmettesse al gran cancelliere che potrebbe trasmetterla a don gonzalo fernandes di cordova non mancavano poi i curiosi che volessero sapere da bortolo il perché quel giovine non c'era più e dove fosse andato alla prima domanda bortolo rispondeva ma è scomparso per mandar poi in pace i più insistenti senza dar loro sospetto di quel che n'era davvero aveva creduto bene di regalar loro a chi l'una a chi l'altra delle notizie da noi riferite di sopra però come cose incerte che aveva sentite dire anche lui senza averne un riscontro positivo ma quando la domanda gli venne fatta per commission del cardinale senza nominarlo e con un certo apparato di importanza e di mistero lasciando capire che era in nome di un gran personaggio tanto più bortolo si insospettì e crede necessario di rispondere secondo il solito anzi trattandosi di un gran personaggio diede in una volta tutte le notizie che aveva stampate a una a una in quelle diverse occorrenze non si creda però che don gonzalo un signore di quella sorte l'avesse proprio davvero col povero filatore di montagna che informato forse del poco rispetto usato e delle cattive parole dette da colui al suo re moro incatenato per la gola volesse fargliela pagare o che lo credesse un soggetto tanto pericoloso da perseguitarlo anche fuggitivo da non lasciarlo vivere anche lontano come il senato romano con annibale don gonzalo aveva troppe e troppo gran cose in testa per darsi tanto pensiero de fatti di renzo e se parve che se ne desse nacque da un concorso singolare di circostanze per cui il poveraccio senza volerlo e senza saperlo né allora né mai si trovò con un sottilissimo e invisibile filo attaccato a quelle troppe e troppo gran cose